uno dei periodi peggiori della storia della Repubblica. Abbiamo una maggioranza politica che ha dichiato guerra alla Costituzione, alla legalità e alla giustizia. Una maggioranza che ha trasformato la politica in una cinghia di trasmissione di interessi di piccole e di grandi lobby, di comitati di affari, di cricche e il trionfo del mondo della corruzione, del conflitto di interesse, dell'abuso di potere, il ritorno in auge della borghesia mafiosa. Questi due anni in Parlamento, vi assicuro, sono state una via crucis. Hanno inaugurato la stagione parlamentare con una legge che aboliva una delle riforme più importanti dei 5 Stelle, il Movimento del Conte 1 e Conte 2. Hanno abolito la norma introdotta dalla legge Spazza Corrotti che stabiliva che i condannati per gravi reati di corruzione non potevano uscire dal carcere con permessi premi e semalibertà se prima non collaboravano. Se cioè prima non denunciavano gli altri complici, non dicevano dove avevano nascosto il malloppo, la prima cosa che hanno fatto è che hanno abolito questa norma. I corrotti, i componenti delle trucche, delle cricche, dei comitati di affari possono tenersi il malloppo, hanno premiato l'omertà, non devono denunciare i loro complici e poi hanno proseguito dichiarando una vera e propria guerra contro le intercettazioni. Le hanno smantellate uno dietro l'altro, ora vogliono dare il colpo di grazia riducendolo a 45 giorni, tempo massimo e bisogna capirli perché nella corruzione raccogliere le prove è difficilissimo, le carte sono sempre a posto, sono gli specialisti delle carte a posto, testi non se ne trovano, l'omertà che c'è nel mondo dei colletti bianchi è peggio di quella della mafia, non parlano, l'unico tallone d'Achille sono le intercettazioni. Grazie a tutti. i provvedimenti di cattura, perché se leggono quello che c'è scritto nei provvedimenti di cattura si disgustano e perdono voti e poi hanno proseguito con l'abolizione e l'abuso d'ufficio, questo è diventato l'unico paese in Europa dove qualsiasi pubblico amministratore è diventato come una specie di signorotto del tempo del feudalesimo, può fare quello che vuole con il proprio potere, può decidere di dare gli appalti soltanto a quelli che votano per il suo partito, può decidere di assumere solo gli amici e i parenti, hanno ucciso la meritocrazia, sappiate che con l'abuso d'ufficio oggi truccare i concorsi pubblici non è più un reato, un ragazzo che studia, un medico che vuole diventare direttore di un ospedale se non ha un amico, se non ha una maniglia, grazie all'abuso d'ufficio non può entrare perché tanto si sono garantiti l'impunità. E quindi il trionfo del nepotismo, dell'amichettismo, del potere usato come strumento di voto di scampio per costruire enormi reti clientelari e naturalmente ora devono raggiungere finalmente l'apice, devono riformare questa magistratura in modo da sottoporla al potere politico, ma avete fatto caso che ogni volta che c'è un processo contro un potente, Toti, Liguria oppure Salvini, dicono subito bisogna accelerare la riforma alla magistratura, ma allora dillo che lo vuoi accelerare perché grazie a questa riforma finalmente questi processi non si faranno più, non dire alla gente che lo vuoi fare per separare le carriere così funziona meglio la giustizia, ditelo apertamente. Guardate ci siamo battuti come leoni in questi due anni. Gliele abbiamo dette con chiarezza, sono arrivati al punto che quando io parlavo tutta la maggioranza di centrodestra usciva dall'aula. Sono arrivati al punto che manco più mi rivolgono il saluto e molti mi chiedono ma come fate a resistere? E io rispondo in modo semplice, lo sapete perché resistiamo? Perché a volte in mezzo alla strada una persona mi ferma e mi dice resistete per noi, resistiamo per voi, resistiamo per l'Italia onesta, resistiamo per l'Italia pulita, restiamo uniti, questo è il momento di combattere, non è il momento della rassegnazione, non dobbiamo consentirgli di prendersi questo paese, teniamoci stretto questo paese.